Musica Continua a tenere banco sul tavolo politico la discussione legata al progetto dei treni a idrogeno. I consiglieri di maggioranza chiedono un consiglio comunale aperto che veda anche la partecipazione dei sindaci di Sassari, Sorso e dei cittadini. Proseguiamo a parlare di trasporti spostandoci all'aeroporto di Alghero, uno scalo imprescindibile per tutto il territorio del nord Sardegna, che in estate opera a pieno regime, mentre in inverno è come in uno stato di coma. E il coordinatore regionale della Lega, Michele Paes, a lanciare l'allarme e a chiedere l'intervento della Regione. Raccogliere adesioni per costituire una rappresentanza territoriale di riferimento alla quale tutti potranno contribuire per migliorare la qualità della vita e dei servizi del quartiere. È la mission lanciata dal segretario del comitato area Sant'Agostino, Luca Paes. Il quartiere ha bisogno di un comitato che manca dal 2020. Ben ritrovati i telespettatori di CatalanTV. Dunque questi erano i titoli del sommario di oggi. Apriamo il nostro telegiornale parlando dunque di trasporti. In primo piano quello con i treni ad idrogeno. Un consiglio comunale aperto coinvolgendo i sindaci di Sassari e Sorso. È questa la richiesta dei consiglieri comunali di maggioranza che vogliono rendere i cittadini parte attiva del processo di decisione sul dibattito riguardanti appunto i nuovi treni a idrogeno. Ma vediamo e sentiamo i particolari nel servizio di apertura. Prosegue in città il dibattito riguardante l'adozione dei nuovi treni ad idrogeno lungo il collegamento ferroviario al gherocentro aeroporto Sassari e Sorso. I consiglieri che compongono la maggioranza hanno chiesto la convocazione di un consiglio comunale aperto coinvolgendo i sindaci di Sassari e Sorso così che i cittadini possano essere parte attiva del processo. Informazione e coinvolgimento dei cittadini rispetto alle decisioni che riguardano il territorio. Più volte abbiamo sottolineato il concetto di democrazia partecipativa in campagna elettorale e oggi lo ribadiamo con ancora più forza. Quello che alcuni hanno confuso come un banale slogan a meri fini propagandistici è in realtà un modus operandi preciso, che abbiamo la responsabilità e il dovere morale di perseguire, specie quando in ballo c'è il futuro del territorio, dichiarano i consiglieri espressione dei partiti di maggioranza cittadina, che, pur consapevoli delle tempistiche distrette e delle procedure genatto, sentono la necessità di approfondire il dibattito sulla realizzazione del collegamento ferroviario, perché ritengono importante verificare le varie ipotesi di trasporto e le tecnologie a disposizione, perché siano in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione e semplificazione della mobilità per lo sviluppo della futura città metropolitana. Già in occasione dell'incontro pubblico ottenutosi a Santa Maria della Palma nelle scorse settimane e della Commissione Consiliare Congiunta svolta ieri mattina, proseguono i consiglieri, è ulteriormente emerso lo stato avanzato del progetto. La necessità di connettere la città al capoluogo e i comuni limitrofi alla principale infrastruttura cittadina resta comunque un dato di fatto incontrovertibile, sia per questioni di mobilità interne, ma anche per rendere attrattivo l'aeroporto agli occhi delle compagnie aeree. Hanno quindi concluso con la richiesta della convocazione del Consiglio Comunale Aperto i consiglieri di maggioranza. E restando sull'argomento treni a idrogeno, si registra l'intervento del coordinamento cittadino di Cittaviva. Perplesso sul progetto ad Alghero succede spesso che i progetti importanti vengano annunciati con toni trionfalistici dei politici di turno, per poi scomparire e covare sotto la cenere per anni. Quando poi, ormai vicino alla realizzazione, tornano allo scoperto, si scatenano tutte le polemiche e discussioni pubbliche che sarebbero dovute avvenire nelle fasi iniziali della progettazione. Questo progetto, nato quattro anni fa con Solinas, presidente della regione, ricorda il rappresentante cittadino di Cittaviva, Franco Masu, senza alcuna concertazione con il territorio, oggi fa seriamente discutere. Ci sono in gioco ben 140 milioni di euro di fondi PNRR. Sono tanti soldi che dovrebbero servire per pianificare il futuro del nord-ovest sardo in termini di trasporto pubblico su rotaie. I treni a idrogeno non sono ancora una tecnologia matura e appare demenziale investire tanto danaro in una linea sperimentale che si sovrappone a una rete tutta da rimodernare. Sarebbe come realizzare un attico di lusso, prosegue Masu, su una casa pericolante che andrebbe ricostruita dalle fondamenta. La soluzione più razionale è che la Sardegna, trovato l'equilibrio per la transizione verso le energie rinnovabili, si occupi di elettrificare e razionalizzare le linee secondarie su rotaia. Cittaviva condivide le perplessità esternate da altre forze politiche e associazioni, mentre vede positivamente studi e progetti sulla metotranvia del nord-ovest, con cui i quartieri algheresi verrebbero efficientemente collegati a Sassari, Porto Torrese e Fertilia con costi stimati molto più bassi. L'aeroporto di Alghero, che ha per ora un buon servizio di navette su gomma, ha soprattutto bisogno di non essere depotenziato, dichiarano dalla sede di Cittaviva, chiudendo con un allarme il nostro territorio è sotto attacco. Di quei poteri che ritengono che sentire la collettività sia superfluo e tempo sprecato, urge una più ampia mobilitazione da parte dei cittadini e di tutte le forze politiche che hanno l'obbligo di intervenire senza se e senza ma. E proseguiamo a parlare di trasporti spostandoci all'aeroporto di Alghero, uno scalo imprescindibile per tutto il territorio del nord-ovest, che in estate opera a pieno regime, mentre in inverno accoglie pochi collegamenti, soprattutto quelli in continuità territoriale. è il coordinatore regionale della Lega, Michele Paes, a lanciare l'allarme parlando di uno stato di coma dello scalo algherese in inverno e esprimendo preoccupazioni anche per i livelli occupazionali. Paes chiede l'intervento della regione e dell'assessorato competente. Un'infrastruttura importante per tutto il territorio del nord-ovest, quella dell'aeroporto di Alghero. Uno scalo che in estate rinasce, consente l'arrivo di turisti dall'Italia e da diverse parti d'Europa, ma che poi, una volta passata la stagione summer, è come che si riaddormenti in attesa di un'altra stagione calda. Da più parti viene caldeggiata una revisione di voli, così come si spera che di anno in anno si chiudano accordi con compagnie straniere che consentano l'arrivo di turisti anche durante la stagione invernale, dove tutto il territorio ha bisogno di destagionalizzare per poter proseguire nel far girare il circuito economico. In merito oggi si registra l'intervento del coordinatore regionale della Lega e consigliere comunale algherese Michele Paes, che parla di situazione preoccupante anche per i livelli occupazionali. È necessario che la regione metta in campo tutti gli strumenti nelle sue possibilità per sostenere il diritto alla mobilità dei cittadini e del comparto imprenditoriale del nord-ovest della Sardegna, oggi particolarmente compromesso in un aeroporto in cui, a malapena, vengono mal garantiti i voli in regime di continuità. La sensazione, prosegue Paes, è che se non si dovesse intervenire in maniera energica la trasformazione dell'aeroporto di Alghero in uno scalo stagionale sia dietro l'angolo. Sempre secondo l'esponente della Lega, l'assessore trasporti potrebbe cercare di orientare verso lo scalo catalano, nella misura massima ammessa dalla legislazione, il pacchetto di 30 milioni di euro stanziati nello scorso assestamento di bilancio dal centro-destra per l'apertura di nuove rotte nazionali e internazionali, rafforzando quelle europee. Rispetto alle notizie apparse sulla stampa di possibili collegamenti tra l'isola e gli Stati Uniti, Paes spiega che se l'assessore Cucureddu individua negli aeroporti di Olbi e Cagliari gli scali appetibili dal mercato USA, è evidente che ci debba essere una compensazione per Alghero sulle rotte europee, come storicamente sempre stato, soprattutto nel periodo invernale, permettendo così la diversificazione per vocazione dei mercati dei tre aeroporti sardi, senza dannose competizioni. La Regione faccia sentire la sua voce autorevole, non affidando esclusivamente alle società di gestione aeroportuali la strategia di crescita e gestione delle rotte, sulla base di ragioni squisitamente economiche. Gli aeroporti in Sardegna, chiude Michele Paes, sono prima di tutto infrastrutture sociali che garantiscono diritti costituzionali. La politica cittadina, dopo l'intervento del consigliere comunale di Fratelli d'Italia Alessandro Cocco, sulla graduatoria del concorso relativo alla nomina di un dirigente dell'area tecnica, arriva la risposta dei consiglieri che compongono la maggioranza cittadina. Premesso che è la Commissione a fare la valutazione del caso e non l'assessore di riferimento, vorremmo ricordare al consigliere due concetti tanto semplici quanto difficili da interiorizzare. Non bisogna confondere questioni amministrative con questioni politiche, viaggiano vicine certo, ma sempre su binari paralleli, scrivono dalla maggioranza. Il secondo punto è forse il più importante, la scelta dei dirigenti e prerogativa del sindaco avviene su base fiduciaria e questo lo legittima a fronte di una chiara motivazione a scegliere qualsiasi candidato a fare valutazioni più ampie e generali rispetto al punteggio ottenuto. I consiglieri di maggioranza chiedono quindi al collega dell'opposizione le ragioni reali delle sue insistite e reiterate interrogazioni a riguardo. Forse pensa di avere voce in capitolo, di poter sostituire la volontà con quella del sindaco, magari dal momento che si è autoinsegnito di un ruolo che evidentemente non gli compete, ha addirittura un nome da suggerire. Preghiamo il consigliere Cocco, concludono qualunque sia la fiamma che accende così tanto la sua passione nei confronti delle nomine dirigenziali, di lasciare che la procedura pubblica segua il suo corso senza interferenze. Ed ora andiamo in provincia dove l'amministratore straordinario della città metropolitana di Sassari, l'avvocato Gavino Arru, riferisce in ordine alle attività svolte per la nascita del nuovo ente. È stata elaborata la bozza di statuto della città metropolitana di Sassari che sarà sottoposta all'attenzione della conferenza metropolitana composta dai sindaci dei 66 comuni del territorio entro il mese di novembre. L'amministratore straordinario ha convocato per domani, il 13 novembre, la riunione con i presidenti delle unioni dei comuni per individuare un percorso condiviso per l'istituzione del nuovo ente. A breve, fanno sapere, si terrà un incontro analogo con i rappresentanti della rete metropolitana del Nord Sardegna finalizzato alla preparazione della conferenza metropolitana che verrà convocata entro questo mese di novembre per l'adozione dello statuto. È in fase di studio e di elaborazione lo stemme e il confalone del nuovo ente che sarà presentato nella stessa riunione. I dirigenti della provincia di Sassari, ognuno per il proprio settore di competenza, si stanno adoperando per la predisposizione del bilancio della città metropolitana, nonché degli atti necessari per l'acquisizione dei software, per la gestione dei flussi documentali, degli atti e per la gestione della finanziaria per la città metropolitana di Sassari. Arriva dal popoloso quartiere di Sant'Agostino di Alghero un appello ai cittadini per la ricostituzione del comitato di quartiere che lì manca dal 2020. Alhanciarlo e Luca Paes, segretario del comitato aria Sant'Agostino, una realtà che si occupa di organizzare eventi per animare la vita del quartiere e coinvolgerne i residenti. A Sant'Agostino deve rinascere il comitato di quartiere. Questi svolgono un ruolo cruciale nel plasmare il tessuto sociale e ambientale delle nostre comunità. Ad Alghero questi organi rappresentano la voce diretta dei residenti veicolando le esigenze e gli interessi delle persone che quotidianamente vivono e contribuiscono al progresso della città. A lanciare un appello dal popoloso rione algherese è Luca Paes, segretario del comitato aria Sant'Agostino, una realtà che si occupa di organizzare e animare il quartiere coinvolgendo i residenti. Paes spiega che la strada che porta al rilancio della cultura e della partecipazione popolare nella nostra città passa soprattutto per i comitati di quartiere e dal 2020 quello di Sant'Agostino non ha un comitato che svolga il ruolo di intermediazione tra i cittadini e le istituzioni. Sempre più cittadini sollecitano di avere e ricevere rappresentanza che possa comprendere i propri disagi e rispondere ai propri bisogni. L'intento, scrive Paes, è quello di raccogliere adesioni per costituire una rappresentanza territoriale di riferimento alla quale abitanti, lavoratori, commercianti, ma anche scuole e parrocchia del quartiere potranno contribuire con uno spirito costruttivo a migliorare la qualità della vita e dei servizi del quartiere stesso sensibilizzando tutti coloro che ci vivono e operano approfondendo problematiche e formulando proposte ma anche sollecitando le istituzioni, in particolare l'amministrazione comunale. Per poter realizzare tutto ciò è assolutamente necessario l'impegno di tutti un gran numero di sostenitori renderebbe il comitato maggiormente rappresentativo e a tal proposito potrà essere convocata una pubblica assemblea per fare in modo che si apra un dibattito per avviare dalla base il percorso di ricostituzione del comitato di quartiere. L'appello alla partecipazione, conclude Luca Paes, è rivolto a donne, giovani, cittadini che vogliono avere un ruolo attivo a favore e nell'interesse della comunità di Sant'Agostino. Ed ora una breve notizia di pubblica utilità da Porta Terra rendono noto che per via degli interventi di disinfestazione previsti il prossimo 22 novembre gli uffici di Porta Terra e dell'ex Casa del Caffè in via Cagliari 2 resteranno per quella giornata chiusi al pubblico. Le attività, essendo un venerdì il 22 di novembre normalmente riprenderanno il lunedì successivo, ovvero il 25 di novembre. Spazio alla cultura, ora parliamo di un appuntamento previsto in città giovedì 14 novembre alle 19 quando lo scrittore magistrato Mauro Pugeddu sarà ospite della libreria Sirano per presentare insieme a Elia Svacca il suo nuovo romanzo Spice una storia appena pubblicata dall'edizione Il Maestrale che riporta in libreria Nada Senes la prima vice commissaria nera italiana protagonista di Eroina. La presentazione è uno degli appuntamenti del festival dall'altra parte del mare viene allestita in collaborazione con il festival Mediterranea. Mauro Pugeddu, nato a Nuoro nel 69 è un magistrato dal 1998 attualmente presidente del tribunale della sua città ha esordito nella narrativa come componente del collettivo di scrittura Elias Mandreu dopo diversi lavori nel 2022 ha inaugurato con Eroina la serie poliziesca che ha per protagonista Nada Senes appunto di cui questo Spice è la seconda puntata tutti i suoi libri sono editi da Il Maestrale. Ed ora allo sport spazio in apertura al tennis tavolo con i risultati del weekend della SD Il Cancello Alghero quarta vittoria consecutiva per la serie D1 battuta d'arresto invece per la D2 contro i favoriti del campionato due partite dal risultato opposto dunque parliamo di quella in casa la squadra di serie D1 ha avuto la meglio sul tennis tavolo Sassari A per 6-0 sfruttando anche la formazione rimaneggiata degli avversari diverso esito per la squadra di serie D2 che in trasferta ha ceduto 6-0 al tennis tavolo Olbia una delle squadre più forti e favorite per la vittoria del campionato sul proprio campo la squadra di serie D1 ha messo in mostra solidità e grande spirito di squadra vincendo ogni incontro contro un tennis tavolo Sassari A che ha schierato come detto due esordienti nella categoria Edwin Evans in continua crescita un risultato che conferma l'ottimo stato di forma della squadra di serie D1 proiettata verso le prossime sfide con una crescente fiducia per la squadra di serie D2 la trasferta Olbia è stata una prova impegnativa contro un avversario tra i più accreditati del campionato nonostante la buona volontà e l'impegno degli atleti l'Olbia ha confermato la propria forza chiudendo tutti gli incontri con un 3-0 il cancello Alghero intanto invita tutti gli appassionati e curiosi a seguire e sostenere le squadre nei loro impegni promuovendo questo sport e come disciplina capace di regalare emozioni e di unire sportivi e tifosi in una grande comunità e chiudiamo il TG con due notizie di palla a volo seconda vittoria in altrettanti match per la web project sotto rete nel campionato regionale di serie D maschile gli algheresi hanno vinto 3-1 a Galtelli contro la PWN Cedrina dopo un primo set disputato con determinazione e conquistato agevolmente per 25-21 la web project ha subito la reazione dei padroni di casa che hanno vinto il secondo per 25-22 un terzo set tutta grinta ha portato gli algheresi a conquistare il parziale per 25-22 chiudendo la sfida con un netto 25-14 nella quarta e ultima frazione il prossimo appuntamento è per domenica 17 novembre alle 18 nella palestra delle scuole medie e Maria Carta di Alghero e proprio il parquet della scuola di Via Malta ha visto la sconfitta al tie-break della ginnasi un pallavolo a Ghero per mano della VBC Macomer nella D regionale femminile dopo aver perso i primi due set 25-16, 25-23 le ragazze di coach Pasqualino Soggio hanno conquistato i due parziali successivi 25-18, 25-22 rimandando il verdetto del match al tie-break dove le più esperte ospiti hanno trovato soluzioni più efficaci chiudendo sul 15-13 in proprio favore la partita e la pallavolo sia maschile che femminile chiude l'edizione di oggi del nostro telegiornale come sempre ora l'appuntamento e con le previsioni del tempo per domani io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata arrivederci e vi ringrazio per averci seguito a tutti e vi ringrazio per averci seguito